La trasparenza è fondamentale perché apre le porte delle amministrazioni ai cittadini e attraverso la trasparenza si opera un controllo diffuso delle amministrazioni e si fa in modo che tutti possano partecipare alla vita pubblica di questo Paese. Si chiama Freedom of Information Act, acronimo FOIA, ed è entrato in vigore lo scorso 23 giugno. Termini complessi per indicare quello che in realtà dovrebbe essere un diritto dei cittadini ma che per essere tale ha richiesto un decreto legge, ovvero l'accesso a tutti i dati delle pubbliche amministrazioni salvo eccezioni a tutela di interessi pubblici o privati. Un importante passo avanti per la trasparenza della macchina pubblica, soprattutto per quanto riguarda il controllo su sprechi e corruzione. Del decreto, della sua effettiva attuazione, soprattutto nella lotta alla corruzione, delle sue criticità si è parlato a Torino, presso la sede della città metropolitana, in una giornata di studi organizzata dall'Anci Piemonte, a cui hanno partecipato, tra gli altri, il procuratore regionale della Corte dei Conti, Giancarlo Astegiano, magistrati contabili e rappresentanti dell'autorità nazionale anticorruzione. La cultura della trasparenza e del contrasto non solo alla corruzione ma all'illegalità sta diventando patrimonio comune di tutta l'amministrazione pubblica, sia nella parte di indirizzo politico che nella parte burocratico-amministrativa. E soltanto con un cambio di cultura favorito da queste norme e dalle innovazioni legislative si potrà avere una miglior qualità della vita, una miglior qualità dei servizi resi derogati ai cittadini. Penso che il problema della prevenzione, del fenomeno della corruzione sia un problema principalmente culturale e direi che è preliminare anche alla formazione di qualunque altro provvedimento amministrativo, legislativo che sia. Ho voluto organizzare questo convegno di altissimo livello, visto la qualità dei relatori, proprio perché è un tema di grande attualità ed è un tema di attualità su due fronti. Uno, quello interno dei comuni che devono applicare, fare i conti con questa normativa e con le difficoltà che l'applicazione di una normativa di questo genere comporta, per cui molti degli uditori sono funzionari pubblici che devono appunto poi applicarla. Ma l'altro fronte è il fronte della politica, è il fronte del rapporto tra ente pubblico e cittadino e del rapporto fra amministrato e amministratore. Siamo presi in queste giornate, in queste settimane, in un grosso processo di trasformazione della normativa sulla pubblica amministrazione. Le norme non bastano a cambiare la realtà, poi c'è bisogno delle persone in carne e ossa per poter cambiare i comportamenti concreti e allora bisogna essere consapevoli delle novità introdotte dal legislatore e questi momenti servono a questo e credo che servano anche a creare quel clima di condivisione che ci permette poi di cambiare effettivamente la pubblica amministrazione.